Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma chi vi porta una location così? Un youtuber laziale di Roma che vi porta una location così? Invece dalla Liguria, ragazzi, spettacolo, spettacolo. Allora, signori, intanto mi metto i guanti perché fa un freddo bestia, ragazzi, ve lo assicuro. Ragazzi, allora, c'è da parlare della situazione, già ve lo dico subito, Luis Felipe. Ieri abbiamo goduto per la sconfitta della Roma, trovate il video sul canale che sta andando benissimo, già oltre 1200 like, quindi guardatelo. Però, in casa Lazio, diciamo, bene i risultati, ma ci sono delle brutte notizie che partono tutto dalla mancata programmazione della società. Cosa è successo? Allora, intanto Luis Alberto ha l'appendicite, quindi vabbè, si è operato, non ci sarà giovedì, non ci sarà domenica col Sassuolo e probabilmente neanche con l'Atalanta. Vediamo la situazione, come evolverà. Comunque l'appendicite può capitare, ci sta. Peccato, perché Luis Alberto stava ingranando, aveva fatto un mucchio di gol ultimamente, però abbiamo l'occasione di vedere Pereira. Invece Luis Felipe ha un problema, un edema alla caviglia che si trascina da un po'. Infatti io vi ho tartassato tutto l'anno, vi ho detto, cazzo, Luis Felipe quest'anno non trova continuità, perché giocando una partita sì e una no non trovi continuità. E anche l'unico giovane che abbiamo nei titolari, perché anche ormai Stracoscia non gioca più, quindi è l'unico giocatore che ha 23 anni, dal 97, quindi dobbiamo tenercelo stretto e anzi valorizzarlo, perché Luis Felipe sul mercato è un giocatore che ha un valore comunque superiore ai 20 milioni, l'anno scorso anche 30, perché l'anno scorso ha fatto molto bene. Quindi si parla di stagione finita perché dovrebbe operarsi, perché è l'unico modo per risolvere questo problema, quindi sicuramente sono contento se si opera, però noi abbiamo una stagione in corso. Quindi adesso si parla di reintegro di Denis Vavro, che due settimane fa praticamente era già del Genoa, poi una, diciamo, rispuntarsi, ricomparsa della pubalgia appunto ha fermato tutto, ha bloccato tutto. Quindi una società che sa che Luis Felipe ha dei problemi, perché lo sa, magari non lo posso sapere io, ma i medici lo sanno che questo è un problema che si trascina da tanto, a gennaio mi devi comprare subito un difensore, perché tu devi essere lungimirante, non quando che le cose accadono ti ritrovi con le pezze al culo, perché la Lazio non lotta per arrivare decima, lotta per arrivare quarta, alla Champions, alla Coppa Italia. Quindi tu devi prevenire, non curare, hai capito, è quello il problema, come l'anno scorso, l'anno scorso dopo il lockdown abbiamo avuto un mucchio di infortuni, ma tu a gennaio dovevi investire, io questa cosa ve l'ho detta. Quindi stessa cosa doveva essere fatta per Luis Felipe, perché si sapeva che aveva dei problemi, non è che si è rotto, si è fatto male all'improvviso, è un problema che si trascina da tanto. Tu reintegri Vavro, che non è neanche in lista Serie A, probabilmente verrà reinserito, adesso giovedì domani può già giocare, perché in Coppa Italia potrebbe già giocare. Però ragazzi, Vavro, se poi dovesse giocare male, non prendiamoci con Vavro, ma con la società, perché questa è mancata programmazione. Vavro è normale che magari non si riesce a integrare, non ha mai giocato un anno e mezzo che non gioca praticamente, poverino, poi ha anche lui delle colpe. Però io chiedo una cosa, la Lazio io non chiedo che spenda 100 milioni all'anno, perché non li spenderà mai, e non è detto che chi spende vince, assolutamente no. Noi siamo cresciuti anche spedendo poco, però è la programmazione che sta mancando ultimamente, perché i giovani non escono più, settore giovanile nullo. E anche queste situazioni qua, vedi che non c'è programmazione, noi improvvisiamo, si rompe Luiz Felipe, non prendi nessuno e reintegri Vavro. Ho visto delle dichiarazioni di Rambo Rambaudi, che ha detto, qua bisogna intervenire sul mercato, perché io, se a gennaio, nonostante i problemi che abbiamo, nonostante l'infortuna di Luiz Felipe, non si interviene, io dalla squadra non pretendo il quarto posto. Se si arriva a sesto o settimo, io dico, e vabbè, ci abbiamo provato, analizzerò le partite, però dico alla società che non vuole arrivare quarto. Cazzo, le altre, il Milan ha preso tre giocatori, tre giocatori. Ripeto, piuttosto, potevi prendere Romulo, parlando della fascia, se non vuoi spendere, prendi Romulo in difesa, ma ce l'hai un giovane. Armini, giovedì, ho visto che non gioca, nelle probabili formazioni dà parolo titolare, cioè, noi adattiamo parolo, pur di far giocare Armini, certo, lì è colpa di Inzaghi, quello sì, o Armini, evidentemente, è uno scarpone, perché se neanche in Coppa Italia, mancando Luiz Felipe, eccetera, non gioca, allora mi faccio due domande. Cioè, lì, o è la testa d'argine di Inzaghi, o è Armini con Pippone, delle due l'una. Cioè, adattare ancora parolo, con tutto il rispetto, che non l'ha mai fatto il centrale destro, anzi, l'ha fatto col Verona, e infatti quella partita lì l'abbiamo perso per errori difensivi, principalmente. E la Lazio, ragazzi, è inutile che noi, allora poi ci lamentiamo e tutto. Allora, soldi, sappiamo che non abbiamo la disponibilità economica. Settore giovanile, non escono giovani. E ragazzi, programmazione non ce n'è, cosa vogliamo di più? Io non posso neanche più prendermela con i ragazzi o con Inzaghi. A Inzaghi dico solo che i giovani bisogna buttarli dentro ogni tanto. Anche solo dieci minuti, ma li devi buttare dentro. C'è Kine, l'abbiamo silurato, Kine. Kine per me ha 23 anni, non ha 18 anni, quindi poteva giocare. Adesso, per esempio, è fuori rosa, dicono che forse torna a Salerno. Però, ragazzi, Kine per me non era male. Abbiamo visto Fares che non è meglio di Kine. Armini non gioca mai, lo bruceremo. Raul Moro. Cazzo, ma Raul Moro col parma? Io spero che dieci minuti glieli fai fare. Ma mi sa di no. Eh, ragazzi, io, chi ve le dice queste cose? Lo so che gli altri, adesso, il derby grande Lazio, però bisogna essere lungimiranti. Lungimiranti nel calcio. O sei il City che spende 200 milioni all'anno, chi se ne frega. Ma se sei la Lazio, tu devi prevenire queste cose. Non è possibile, ragazzi, non è possibile. Io non so cosa dire. Vabbè. Ragazzi, ci vediamo domani col video Lazio Parma. Bella.